L'infallibile fiuto di betti e semi e due cani antidroga della Guardia di Finanza di Olbia è andato a segno anche questa volta. Recuperato mezzo chilo di infiorescenze e di marijuana, è arrestato lo spacciatore, un rumeno di 26 anni, da 15, residente nel capoluogo Gallurese. L'operazione si è conclusa in un villaggio turistico di Golfo Aranci, dove la sostanza stupefacente era stata nascosta. L'uomo, impiegato come manutentore, è stato puntato dai cani, mentre è impegnato nelle attività di pulizia dei giardini del centro di villeggiatura. Il giardiniere, alla vista delle unità cinofili, ha cercato di defilarsi, ma una volta fermato, nonostante le segnalazioni dei cani, non aveva con sé alcuna sostanza stupefacente. L'insistenza dei cani faceva però intuire che il rumeno avesse gli abiti impregnati dell'inconfondibile odore di marijuana. Accompagnato nel suo alloggio dopo una breve perquisizione, è stato dunque rinvenuta una busta contenente 500 grammi di infiorescenze di cannabis.